Siamo tornati all'hotspot di Taranto perché la situazione continua ad essere ingestita dal governo centrale. 20 immigrati tunisini sono scappati da questo hotspot che è assolutamente inadeguato a contenere gli immigrati, altri 20 ne sono scappati due giorni fa da Brindisi. Questo fa capire come la situazione sia assolutamente ingovernabile. Tutto questo mentre gli uomini delle forze dell'ordine a Taranto sono costretti a lavorare in condizioni igienico-sanitarie assolutamente terribili. Abbiamo chiesto al prefetto di mettere delle coperture per dare la possibilità agli uomini delle forze dell'ordine di avere un po' di ombre. Adesso andremo a verificare se questo è stato fatto. Abbiamo chiesto i servizi sanitari igienici che non ci sono. In tutto questo il sindaco di Taranto, Melucci, e il presidente Emiliano sono assolutamente assenti. In questo momento gli sbarchi in Italia sono triplicati. Arrivano dalla Libia, dai Balcani, ma soprattutto dalla Tunisia dove non c'è guerra. Quindi sono immigrati che non avranno comunque diritto a rimanere sul territorio italiano. Il ministro Lamorgese fra qualche giorno si recherà in Tunisia. Fratelli d'Italia chiede che il ministro imponga a quel governo di bloccare le partenze. Il presidente del Consiglio Conte soltanto nel 2018 aveva detto in questo bellissimo discorso in aula che avrebbe fermato l'immigrazione clandestina, che avrebbe bloccato il lavoro illegale dell'ONG. Ebbene, non appena ha cambiato casacca ha cambiato anche posizione. Oggi le nostre coste sono invase e i nostri cittadini sono messi a rischio non soltanto nella loro sicurezza, ma anche nella loro salute. Perché queste sono persone che non rispettano le loro regole, lo prova il fatto che scappano continuamente dai nostri hotspot. I nostri uomini delle forze dell'ordine non possono fare niente perché non sono reclusi. Possono soltanto invitare queste persone a rimanere nei centri, ma quando si danno alla macchia diventano delle bombe ad orologeria perché ad oggi non sappiamo neanche se sono positivi o meno al Covid. Questa è una situazione allarmante che deve terminare. Chiediamo l'intervento del governo su queste questioni. Grazie.